buongiorno ragazzi per chi volesse sostenere il canale basta un'iscrizione fai un clic iscriviti è molto semplice non ti costa nulla e per noi è importante e attiva la campanellina perché stanno tornando le live dopo la partita cardiopalma di ieri sera io mi sento di dire due cose in totale sincerità perché io non ho copioni da rispettare non devo sostenere sorreggere nessuno dico semplicemente quello che penso può piacere non può piacere e non lo so dove i cinese ma a parte questo la difesa dell'inter che rispetto all'anno scorso è meno performante ma l'è normale avevi uno di trentasette anni operato di pubalgia non hai comprato nessuno lo dico a quelli che che lo dico a quelli che ci vendevano il mercato da undici da dodici da quindici questa estate no eh il problema qual è il problema dell'inter che a parte la l'assenza di Acerbi ma anche quando c'è Acerbi riesce a fare il suo a differenza dell'anno scorso che faceva il suo e colmava i buchi difensivi che lasciavano i suoi compagni di reparto quest'anno Acerbi quando gioca riesce a fare il suo lo fa bene ma non riesce più a sopperire agli errori dei compagni perché Pavard e Bastoni sono principalmente delle fonti di gioco e Pavard a livello difensivo aveva iniziato molto male Bastoni spesso a livello difensivo qualcosa sbaglia poi li trovi in giornata eh per dirti dove magari sono in forma e sono forti sia in fase propositiva e in fase difensiva eh il problema comunque di questa squadra tornando alla partita di ieri sera non voglio battere sempre lì non me ne frega nulla io ti dico quello che penso il problema principale di questa squadra che non ha eh sostituti all'altezza in panchina in nessun ruolo secondo me né in difesa ci sono sostituti all'altezza eh eh a centrocampo qualcosina ma davanti siamo con le pezze al sedere cioè ad oggi se l'Inter avesse Sanchez che comunque quando entrava mangiava il campo se ad oggi l'Inter avesse avuto Sanchez la partita di ieri te la vinci due tre a zero se lo metti mezz'ora quaranta minuti perché l'Inter soprattutto a livello offensivo e mi prendo le responsabilità di quello che sto per dire l'Inter ha una panchina indecorosa con tutto rispetto e senza offesa io sto parlando di calcio non voglio andare a livello sul personale l'Inter a livello eh offensivo ha una panchina indecorosa dove ad oggi Sanchez sarebbe un fuori classe rispetto a quei tre che abbiamo Turam ieri era poco lucido gliela vogliamo perdonare una partita poco buona a Turam oppure no gliela vogliamo perdonare una partita poco buona a Turam o vogliamo dare addosso anche a Turam è stanco Turam come Lautaro Martinez avranno secondo te il diritto di avere un sostituto all'altezza? Non ce l'hanno devono giocare sempre loro noi siamo ridotti che che contro il Venezia con tutto rispetto per il Venezia non possiamo far giocare nessuno di quei tre perché no non gli legano nemmeno le scarpe ai due titolari ma di cosa cazzo ragioni anche te le tre punte dietro la Tula non riescono a dare un minimo di un tributo in fase offensiva e veniamo e veniamo me lo so insegnato veniamo anche all'operazione del signor Tareni 30 milioni perché ragazzi io non ce l'ho né con l'Iran né con gli iraniani ma ma mi dite la quando in qua in Iran si gioca a calcio me lo vuoi ricordare un calciatore forte che veniva dall'Iran per favore io l'Iran lo conosco per il caviale che è famosissima per il caviale e per i pistacchi che sono i loro due mercati principali caviale e pistacchi mi dici la quando i qua giocano a calcio in Iran me me lo fai capire perché io non riesco ad accettarla questa cosa ho limite mio va bene sono io limitato noi ci sono problemi però te mi devi dire di cosa ragione questo signore qui guarda questo signore qui questo signore qui questo signore qui è un'operazione da circa 30 milioni tra quello che è costato di procuratori pastorelli e pinto e dell'ingaggio lordo per tre anni noi ce lo dovremmo portare questo giocatore qui fino a 36 anni perché nel 2025 il signor Tareni va per i 33 anni ma io non ho nulla contro Tarevi ma non può giocare nell'Inter questo non può mai giocare nell'Inter guarda i numeri e lì c'è il rigore che ha fatto battere Sharanoglu su quattro a zero contro quei morti della stella rossa tra virgolette morti a livello calcisti guarda i numeri te dimmi se questa può essere la terza punta dell'Inter te mi devi dire se un giocatore che prende tre milioni e mezzo costato ventotto milioni di operazione a trentadue anni che va per i trentatré te mi devi dire se questo può essere la terza punta dell'Inter te mi devi dire se questo qui può essere la terza punta dell'Inter dimmelo te guarda i numeri frattesi segna dieci volte più di lui e te l'analizzo io la partita di Taremi perché lo seguo a differenza tua e guardi i dribbling i dribbling me lo metto sui coglioni io perché Taremi pronti via sbaglia subito un passaggio riguardati la partita sbaglia subito un passaggio elementare di piatto che fa anche mio figlio a sette anni passaggio debole e corto una scurreggina non un passaggio una scurreggina di un neonato invece di dare una bella botta alla palla tra l'altro debole corto e orizzontale pronti via appena entra riguardati la partita se 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 non credi a quello che ti dico il passaggio era eh destinato a Turam tra l'altro lui la passa male nasce una ripartenza per il Venezia perché questo giocatore quando gioca spesso è dannoso perché perde tutti i contrasti non tiene un pallone e viene sempre anticipato riguardati la partita non me le frega nulla della fintina e poi per chi dice quel tiro sarebbe finito dentro ragazzi basta con la domenia quel tiro sarebbe finito in tangenziale o nel fiume quindi ci fa prendere una ripartenza appena entra in più in più stiamo giocando contro il Venezia non contro la Madrid, Barcellona, City o Monaco in almeno quattro o cinque occasioni lo ripeto non sto scherzando riguardatevi la partita in almeno quattro o cinque occasioni sulla tre quarti dalla parte sinistra con il Venezia sbilanciato perché Venezia ci stava attaccando quindi lui aveva una prateria davanti lui spesso si trova alle praterie davanti cosa fa fa tre quattro tocchi tocca la palla tre quattro volte si gira si gira guarda il cielo dice ma pioverà domani si gira e aspetta che arrivi qualche compagno invece di puntare quella cazzo di stramaledetta porta lui guarda il cielo dice ma pioverà domani che tempo sarà farà freddo che fomi metto i guanti lui aspetta che arrivano i compagni in Venezia nel frattempo si riposiziona di cosa ragioni in Venezia si riposiziona tutto riguardati la partita se non ci devi sembra che si nasconda alle spalle dei compagni per non ricevere la palla a questo giocatore quindi non è che punta la porta lui non punta mai lui aspetta rallenta guarda il cielo guarda se ci sono le nuvole conta le stelle una due tre ma mi dici che cazzo di giocatori è questo qui ma di cosa stai ragionando rallenta tutte le ripartenze della squadra perché non se la sente di buttare la porta ragazzi per chi non vede queste cose seguisse le cose dei cani ma di cosa ragioni questo è la terza punta dell'inter ma io divento una bestia questo è la terza punta dell'inter e la quarta e la quinta chi sono allora allora vengo io quarta punta facciamo in questa maniera ma di cosa ragioni vedrete vedrete perché comunque l'allenatore ieri lo boccia eh bocciatura l'amorosa perché non lo fa giocare nemmeno conto in Venezia poi Duramme è stanco verai Duramme deve giocare tutta perché Pachina e Duramme Lotharo non hanno nessuno che li possa sostituire di cosa ragioni le è un cane si morde la voda alzano alle Napoli vedrete che l'inter sarà molto più concentrata rientra cerpi eh in condizioni accettabili e c'è la no glue rientra in pianta stabile vedrete contro alzano alle Napoli saremo molto più concentrati ma soprattutto molto più motivati ragazzi io ve lo dico in conclusione di video se a gennaio non compiamo una punta noi non andiamo da nessuna parte eh visto che sono stato ottimista vinceremo altro in Venezia parrucca il resto te lo diamo a Napoli te lo diamo scusa a Milano parrucca rolla ma sono sempre stato positivo io ti dico che se l'inter a gennaio non prende un attaccante che riesce a tirare in porta la porta la porta la porta devi tirare in porta devi tirare in porta se un attaccante che non vede la porta noi non andremo da nessuno a parte ciao ciao a tutti Grazie.